Ma quali sono i segnali che ci fanno capire che il narcisista è in carenza di rifornimento narcisistico? Andiamo a scoprire questa cosa. Sono giorni che sembra che non abbia volle di parlare con nessuno. Provate a fare qualche battuta per far salire un po' il morale, no? E nulla, non funziona nulla. Sembra quasi spento, sembra quasi che... è come se ci fosse una cattiva notizia che si sta trattenendo dal rivelarvi. Non ride più. Quando lo vedete è così, e quindi voi vi chiedete, ma come mai è così da una settimana? Cioè, è spento. Forse c'è qualcosa che non va al lavoro. Forse c'è qualcosa che ho detto di sbagliato. E quindi non reagisce. Sembra che tutte le sue forze siano svanite. Bene, quello che avete di fronte è il narcisista quando non ha il suo rifornimento narcisistico come gli piacerebbe. L'intensità per qualche motivo è calata. Potrebbe essere che al lavoro non gli vengono più fatti i complimenti su alcune cose. Come sapete, il narcisista vive di complimenti, vive di adurazione, vive di adurazione. Quando queste cose vengono a mancare, il suo falso sé non è più nutrito. Si sta indebolendo. E questo si vede nel suo modo di atteggiarsi. Si vede nel suo modo anche di parlare. Perché noterete una cosa. Quando il narcisista o la narcisista, e quindi in questa modalità qui, che sembrano depressi fuori maniera, che sembrano privi di energia, noterete anche un callo nella qualità delle parole che usano. Quindi, se prima si esprimevano in una certa maniera, in una maniera educata, in una maniera ricercata, adesso quello che sentirete saranno parolacce che spuntano fuori ogni cinque minuti. Sarà una persona che parla in una maniera talmente volgare che vi sembrerà di non riconoscere questa persona. Sarà una persona con modi rudi. Se prima magari vive una certa classe, un certo modo di vestirsi anche, adesso sembrerà veramente qualcuno di estremamente rozzo. Qualcuno che non ha nessun gusto, che non ha nessuna classe. Proprio perché siamo in una fase in cui non c'è più il rifornimento narcisistico, e quindi ci stanno deprimendo. L'effetto, e qua non è un'esagerazione, l'effetto è simile a quello di un tossico che non ha più la sua dose. Il narcisista reagisce esattamente alla stessa maniera. Tant'è che dopo un po' comincerete a vedere dei sbalzi di umori improvvisi. Si arrabbieranno facilmente del tipo, vi avvicinate per chiedergli, scusa ma stai bene? Lasciami stare, cosa vuoi da me? Non vedi che sto male? Allontanati da me! Vedrete atteggiamenti simili, quindi sbalzi di umori improvvisi, che non sembrano giustificati da nulla. E voi vi sentirate anche in colpa, perché direte, ma io non ho fatto niente, non ho detto nulla. Ho soltanto chiesto come stava, e lui o lei si stanno arrabbiando fuori maniera. Se siete di fronte a un narcisista violento, state molto attenti, perché potrebbe essere una situazione estremamente pericolosa questa. Non hanno il controllo delle proprie emozioni, o diciamo più che emozioni dei propri impulsi. Non c'è nessun controllo, quindi è una fase molto delicata. Questa è la fase, se conoscete bene il narcisista o la narcisista, quindi sapete cosa gli piace sentire, sapete quali sono le cose che lo muovono o la muovono, questa è la fase in cui potete cercare un po' di controllarlo o controllarla tramite alcuni rifornimenti narcisistici mirati, del tipo, ma sai quante volte penso che ho fatto bene a conoscerti? L'altro giorno una mia amica mi parlava di te, sai? Ha detto che lavori molto bene. Quando fate questo, lo state caricando un attimino, ma non è che lo state caricando perché avete voglia di caricarlo e gonfiare il suo ego, no. È per cercare di attenuare la sua rabbia, è per cercare di attenuare la sua crisi di astinenza, perché di questo che si tratta. Perché questa è la fase in cui loro stanno andando in una sorta di stress post-traumatico. È lì che vedete fino a che punto la patologia del narcisismo è veramente una malattia, è una malattia seria, perché in questo istante qua sono in crisi di astinenza vera e propria e ci sono gli effetti sul fisico, li vedete che diventano palidi. Sembra quasi che si stanno ammalando, proprio perché la psiche non è nutrita. E vi ricordate che ho fatto un video in cui spiegavo il collegamento che c'è fra la nostra mente e il nostro corpo. Quando quindi la mente non è alimentata come si deve, non ha un certo vigore, questo va davvero un effetto sul fisico. Ed è quello che sta succedendo al narcisista quando non c'è rifornimento narcisistico di un certo tipo. Perché ricordate, non stiamo parlando di un narcisista che ha perso la moglie, che ha perso i figli, no, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di qualcuno che ha avuto una settimana o magari un mese in cui non ha più un certo tipo di rifornimento narcisistico a lavoro o magari con le sue varie conquiste, se è uno che ama tradire e cose simili, o magari si era fatta delle aspettative su una cosa che lo hanno deluso e quindi questa cosa ha ridotto drasticamente il suo rifornimento narcisistico. Quindi in questa situazione abbiamo un calo e in questa fase, in certi casi, assisterete a quello che li aspetta quando verranno abbandonati da tutti, ovvero cominciano ad inventarsi nella loro mente dei nemici immaginari, cominciano a vedere complotti ovunque. Vi ricordate il video che ho fatto sulle idee di riferimento del narcisista? Ecco, sarete in pieno in questo tipo di cose, in questa situazione qui. Non farà parte dell'aspetto principale, ma ci sarà decisamente, perché appunto sono in una fase in cui hanno bisogno di risentirsi al centro dell'attenzione, hanno bisogno di risentirsi carichi in un modo o nell'altro, anche se devono inventarsi dei nemici immaginari. A volte assisterete anche a delle situazioni un po' spaventose, ovvero quando il narcisista sceglierà una persona così a caso sulla quale si punterà e assegnerà a questa persona qui un sacco di complotti nei suoi confronti. Sarà lì a dirvi, quella persona lì, ogni sera, è lì che mi guarda di notte, la vedo alla finestra, hai visto il cane che ha comprato? Mi guarda in una maniera strana, ogni volta che mi si avvicino, appaia, quella persona mi odia. E voi li vedrete puntati così su quella persona, ogni giorno. A volte, a volte con un'intensità un po' preoccupante, perché vi dico, io parlo qua per la mia esperienza, ci saranno momenti in cui avrete paura che il narcisista o la narcisista salti addosso a questa povera persona che non c'entra assolutamente nulla. Perché appunto è un discorso di se io ho questo nemico qui o questa nemica qui, allora sono il centro della tensione. E vi ricordate che ho detto che ai narcisisti non importa se si tratta di rifornimento narcisistico primario positivo o negativo, l'importante è essere al centro della tensione. E quindi in certi casi, ma certi casi davvero estremi, ok? Davvero estremi, ci potrebbe essere il rischio che il narcisista, per il fatto che è convinto che quella persona lì sta per aggredirlo o aggredirla, vorrà anticipare gli eventi. Cioè capite? Sono letteralmente dei tossici psicologici in mancanza della pilola psicologica che è appunto il rifornimento narcisistico. Se per qualche motivo avranno un rifornimento narcisistico così che arriverà dal nulla, li vedrete ripartire e ricaricarsi dal nulla, no? Quindi tipo 3-4 ore fa il narcisista era pessimista, era giù di morale ed era così per una settimana. Voi all'improvviso lo vedrete o la vedrete carica così dal nulla, proprio non si sa da dove cavolo è arrivata questa cosa, bam! Sono carichi, sono ripartiti e ridiventano la persona che conoscete, la persona che ama sempre essere al centro della tensione, che è carica di energia quando si tratta di offendere e di sminore le persone. Questo perché? Perché hanno trovato un rifornimento narcisistico. Potrebbe essere quindi una persona che hanno incontrato, che ha fatto un complimento. Voi avete fatto il complimento sì, però voi siete... ormai è brutto da dire, ma voi ormai fate parte del quadro, no? Siete il solito rifornimento narcisistico, non c'è nulla di nuovo. Loro si sentono più carichi quando sono persone nuove che incontrano. Adonano questa cosa qui, quindi quando una persona che non conoscono, magari qualcuno gettonato, magari nel quartiere, magari al lavoro, magari nel milio sociale, insomma, è una persona gettonata. Qualcuno che percepiscono in un certo senso superiore al livello di valore sociale. Quindi in questi casi il narcisista sarà carico fuori maniera e non lo riconoscerete, perché appunto la cosa è ripartita. Quindi questi sono i momenti in cui vedrete che il narcisista è accorto di rifornimento narcisistico, avrà questo tipo di atteggiamento qua che ho menzionato. Lì saprete che ok, qua manca qualcosa, qua è giù di morale, è nella sua fase vulnerabile, ma anche eventualmente pericolosa, ripeto, se si tratta di un narcisista violento. Quindi state molto attenti quando vi ritroverete in questo tipo di situazione. Bene, questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e... ci vediamo alla prossima!